quante Cagliari viviamo ogni giorno quella dei quartieri storici e delle antiche vie quella dei panorami suggestivi e di suoi angoli pittoreschi quella del mare la Cagliari dei giardini dei suoi nuovi spazi verdi e dei tanti simboli che la rendono unica e attrattiva in tutto il mediterraneo una comunità che nel tempo si è saputa trasformare perché la sola strada che conduce alla bellezza è quella del cambiamento ogni giorno possiamo scegliere la Cagliari che vogliamo essere superando la paura di cambiare lo facciamo per migliorarci per crescere insieme grazie ai fondi pon metro ci siamo aperti a nuove opportunità per disegnare una città più sostenibile più intelligente più smart ma senza mai snaturare la sua identità è arrivato dunque il momento di guardare avanti e costruire un nuovo volto per la nostra città Cagliari cambia e cambia insieme a te